ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo aggiornamento video del guida su terra e tutto ciò che fa parte dell'ecosistema e tutti i suoi protocolli andiamo subito su terra station punto terra punto money all'interno di questo sito per vostra comodità se cliccate su connect e quindi andate su download terra station anziché accedere con ledger vedete che vi compare la possibilità di scaricare sia per mac che per windows che per linux cliccando su windows vi permetterà di scaricare l'applicativo per il programma windows e quindi utilizzare direttamente l'applicazione per computer quindi non dovrete più accedere dal web browser ma andiamo direttamente sull'applicazione della station che apparirà guardate proprio come la vostra pagina di internet se voi andate su wallet naturalmente bisogna attendere l'aggiornamento del sistema perché l'una e devono essere naturalmente presenti all'interno del vostro della vostra ledger e perché avete questa quantità per mostrarvi naturalmente come funzionano i protocolli di terra station perché naturalmente l'una li avevi le avevate comprati o le avete in qualche modo in qualche exchange e voi fate il prelievo dal vostro exchange utilizzando l'interizzo che avete qui in alto all'interno della vostra terra station e quindi potete copiare questo indirizzo e lo incollate nel vostro exchange e li inviate per poter effettuare le vostre prove naturalmente vedete poter cliccare essendo ma non è il nostro indirizzo il nostro utilizzo sarà quello di swappare vedete mettere in swap il nostro valore di luna ossia 5, quello che vediamo quello che abbiamo ecco 5,016 luna e naturalmente possiamo mettere direttamente solo un valore netto 5 e convertirli in ust vediamo quanto viene 74,46 dollari terra next possiamo andare avanti e quindi possiamo procedere allo swap tramite terra swap direttamente all'interno di questo applicativo di terra station su staking vedete possiamo mettere in staking le nostre valute per esempio possiamo utilizzare questi validatori per delegare queste quantità che però vengono bloccati e richiedono un determinato tempo per poterli sbloccare quindi per il momento diciamo per la piccola quantità non interessa non è di utilizzo al momento se ne avete tanti si potete mettere anche delle gate guadagnare un certo valore di interesse quindi mettiamo i nostri luna mettiamo direttamente la stessa quantità unica e convertiamola in dollaro terra attendiamo un attimo che carichi ecco 74,79 dollaro terra in questo momento a prescindere della risalita del luna questi dollari terra verranno convertiti e una volta cliccato su next final amount you receive in dollaro terra may vary due to the swap rate change luna questo è lo scambio quindi possiamo scambiare in questo momento direttamente naturalmente vi volevo dire che sto utilizzando la ledger nano x per collegarlo direttamente alla terra station quindi potete installare dentro la ledger live ossia l'applicazione per computer della ledger nano s nano x terra e una volta entrati dentro terra potete confermare con la vostra ledger quindi ecco perché voi leggete confirm with ledger confermiamo con la ledger sembra che tutto vada bene perché guardando la vostra ledger collegata tramite il cavetto usb con il vostro computer vi dirà view transaction voi andando avanti con la freccia laterale destra della vostra ledger nano s o x permetterà di vedere il contratto e successivamente dopo varie pagine di verifica vedrete la parola scritta che vi dice sign transaction conferma transazione cliccare su tutti e da entrambi i pulsanti e vedete che il lo schermo vi mostra che è stata confermata con la ledger la transazione di swap tra terra luna luna 5,016 confermati con slippage a 0 mi ero dimenticato anche di dirvi una cosa per quanto riguarda la sicurezza del sistema del mondo terra i valori massimi di slippage ossia di differenza che può avere di valore nelle transazioni può essere al massimo di un 2 per cento e il tutto è anche limitato a un certo quantitativo di movimentazione adesso non ricordo se dice 100 milioni di dollaro terra quindi per quanto concede la sicurezza di tutto il sistema terra non si può fare i furbi diciamo quelle funzioni scam dove vedete che mare di persone che avevano messo enormi valori per mostrare che il sistema era pieno di milioni di dollari o di miliardi di dollari all'improvviso prelevano tutto e il sistema collassa perché non c'è più una lira praticamente è tutto basato su un sistema anche di sicurezza perché ovviamente questo sistema viene utilizzato proprio nel mondo reale come dicevo dall'applicazione coreana chai per i pagamenti di tutti i giorni quindi di forza per forza non può essere questa blockchain una scam non può essere una sorta di truffa quindi c'è un caso reale d'uso andiamo di nostro nel nostro wallet vediamo che il una sono i must un piccolo quantitativo adesso sono prevalentemente il dollaro terra presente qui all'interno del sistema ora noi possiamo andare su anchor colleghiamo il wallet terra station quindi andando su app.anchorprotocol.com e avendo quindi su terra station 74.5 adesso sono 96 2 92 6 dollaro terra potete per depositare direttamente cliccare su questo a montare deposito vi comparirà il vostro valore annetto delle fee quindi delle commissioni procedi la vostra app terra station del google chrome vi chiederà di ammettere di sottomettere questa failure to broadcast ledger screensaver mod is on quindi vi dice di si guardare la vostra ledger per poter verificare questo tipo di transazione e noi la stiamo andando a procedere ad avviare quindi la attiviamo rifacciamo la stessa procedura proceed submit broadcasting transaction please wait while your transaction is being processed quindi attendere perché visualizzerete sulla vostra ledger che dovete attivare il protocollo di attivazione dove leggerete signs transaction doppio clic con tutte e due pulsanti per accettare e vedete che il protocollo permette a ancor di attendere per la ricezione dei dollari terra all'interno della vostra del vostro ecosistema perfetto è stato completato adesso questi 74 dollari terra presenti all'interno del protocollo ancor hanno una certa peculiarità perché non solo vi dico cambiamo un attimo colore perché è più bello anche lo scuro e vediamo anche meglio mentre l'api è sempre costante lo ribadisco chi per chi non avesse visto il video ma ve lo linko alla fine alla fine del video per mostrarvi la spiegazione iniziale dentro ancor non l'avevo detto ma lo dico in questo in questo secondo video c'è la possibilità di assicurare una copertura vedete se cliccate potete andare in uno di questi siti come next mutual insurance o bridge mutual vediamo next mutual che vi permette con una sorta di 5 per cento adesso possiamo scorrere per leggere un po tutto quello che fa questo sorta di block chain decentralizzata di ottenere una sorta di sicurezza del vostro del vostro deposito quindi i vostri soldi sono assicurati compagando un 5 per cento e quindi al netto del 20 20 meno 5 avete un 15 per cento netto con un'assicurazione addirittura contro l'hackeraggio qua naturalmente c'è scritto tutto quello che offre questo protocollo vi lascio in descrizione naturalmente questo antlashed.finance che vi permette di assicurare i vostri asset all'interno della block chain di terra con il protocollo ancor ma questo è un altro discorso quando naturalmente si sta parlando di così poco solo per mostrarvi che cos'è e come funziona è chiaro che non ha valenza non ha utilità ma allora a cosa serve una volta depositati questi soldi cosa possiamo fare? questo qualcosa di interessante è il protocollo mirror terra.mirror.finance abbiamo la nostra page abbiamo il nostro trade borro farm and govern però lo affronteremo in un successivo video per permettervi naturalmente di metabolizzare le informazioni su anchor e su terra luna vediamo quindi nel prossimo video di parlare per massimizzare quindi per quale motivo vi ho detto che c'è qualcosa di meglio per massimizzare in toto i vostri dollari terra o a dollaro terra perché vedremo come i dollari terra che comunque vanno a generare un 20 per cento all'interno del protocollo anchor quindi avete comunque questo 19,4 che vi viene fornito da anchor andranno a generare un ulteriore anzi più ulteriori rendimenti all'interno di questa struttura di questo protocollo sempre dell'ecosistema terra ma questo lo vedremo nel prossimo video grazie ancora per il like e alla prossima ciao grazie a tutti